In questo capitolo andremo a capire come fare per godersi finalmente la corsa, fin da subito. A seconda di chi siete, dei vostri obiettivi e del vostro livello, vi fornirò un quadro completo per riflettere e capire come iniziare ad allenarvi e soprattutto su cosa concentrarvi. Troppi corridori non ottengono i loro migliori risultati proprio perché non sanno come impostare i loro allenamenti e non approcciano la corsa nei modi e nei tempi corretti. Tu però non puoi più permettertelo e io voglio darti la soluzione a questo problema molto diffuso.